Cosa sono i nanofertilizzanti? I nanofertilizzanti sono fertilizzanti di nuova generazione che sono poco solubili rispetto ai fertilizzanti tradizionali ma molto più solubili della composizione media che ottengono. Quindi possono essere regolati come capacità di dissoluzione nel tempo e regolare la quantità di materiale che rilasciano. Perché nano? Perché hanno dimensioni di particelle che sono molto piccole nella scala nanometrica. Un nanometro è circa un miliardesimo di metro e quindi stiamo parlando di particelle piccolissime, invisibili a occhio nudo ma che messe tutte assieme danno a luogo una specie di polvere trattabile e con superficie specifica, ovvero superficie per unità di volume particolarmente alta. Quali sono i vantaggi che un nanofertilizzante mi dà rispetto a un fertilizzante normale? Il nanofertilizzante è fondamentalmente un materiale che permette due vantaggi fondamentali. Uno l'utilizzo di una quantità di materiale inferiore al fertilizzante normale e quindi con una salvaguardia di quantità non tossiche. E la seconda possibilità è quella di mettere direttamente il materiale sulle foglie piuttosto che nel suolo e quindi internalizzare il materiale laddove va direttamente a esercitare la sua capacità fertilizzante. Avete fatto test su culture, che risultati hanno dato? Abbiamo fatto test su culture di tipo grano duro, su vigneti, su test in vaso di varietà di pinot grigio in collaborazione con conegliano e ultimamente con culture idroponiche e di cetrioli. Tutti questi test hanno dato valori di qualità del prodotto assolutamente paragonabili con i fertilizzanti normali pur utilizzando quantità molto più basse di materiali nanofertilizzanti. Al prossimo episodio